I giovani magistrati vincitori degli ultimi concorsi per uditori di tribunale che si trovano a Roma per seguire presso l'accademia della GIL. Al Foro Mussolini il corso di preparazione fascista promosso dal ministro Guardasigilli hanno avuto l'ambito onore di essere passati in rivista dal Duce che ha espresso il suo alto compiacimento per l'iniziativa e per l'andamento del corso. Grazie.